Cesare, quinto serviglio ceppione brutto è qui. Ave Cesare, sono passato per farti un salutino. Oh brutto, proprio a te cercavo. Ho pensato di farti un regaletto per la casa nuova. Non vedi Cesare? Per sette di cortelli, quanto sei o gaiardi. Ma che? Quando eri? Se voglio bene, pure io. Compagnia sbagliata? Vai su segugio.it, confronti le offerte delle compagnie assicurative e risparmi sulla polizza auto o moto. Segugio.it, trova la compagnia giusta. Fai un preventivo. La tensione qui si taglia con il coltello.